Ma quella donna è incinta? Beh sì e no. Jean Van Eyck viene incaricato di dipingere questo ritratto del mercante italiano Giovanni di Nicola Arnolfini e della moglie Costanza mentre entrambi vivono a Bruges. I dettagli che ci catturano sono moltissimi, lo specchio, il cane, il cappello di lui, ma l'attenzione dello spettatore viene immediatamente attirata dall'abito verde di Costanza, un effetto voluto dall'artista. La donna è immersa nel verde in contrasto con il rosso di sfondo del letto a baldacchino e questa distesa di colori non può fare a meno di ricordarci il simbolismo tradizionale, i germoli verdi in natura e la nuova vita. Quindi sì Costanza viene rappresentata nell'opera incinta ma in realtà è un lavoro di celebrazione dell'ideale sociale di allora del matrimonio che porta ricchezza e abbondanza sotto tutti i punti di vista. Tuttavia la coppia non doveva essere stata così benedetta, Costanza infatti muore senza figli nel 1433, l'anno prima che questo dipinto venga completato.